Allora attenzione alle proposte di rifinanziamento delle banche che contengono nella proposta medesima una clausola che le solleva da tutte le eventuali irregolarità compiute nel passato. Allora partiamo con ordine, siamo a settembre, abbiamo le banche che nuovamente stanno chiedendo il rientro e la restituzione dei prestiti a professionisti, a PMI, a famiglie, a privati perché i nuovi requisiti di ricapitalizzazione le impongono appunto di avere più capitale di riserva. Mandano lettere a moltissime di queste aziende, di questi privati, di questi professionisti dicendo restituiscimi il prestito altrimenti passo la pratica all'ufficio contenziosi. Allora innanzitutto attenzione perché alle banche non conviene passare la pratica all'ufficio contenziosi perché automaticamente appena lo dovessero fare dovrebbero accantonare a riserva del capitale in previsione che la causa possa finire più o meno bene. Quindi alle banche non conviene, fanno questa sorta di terrorismo psicologico ma loro non conviene passare pratica in ufficio contenzioso. Però ribadisco attenzione, molto spesso queste proposte, queste richieste di rientro dalle posizioni debitorie contengono delle proposte di rifinanziamento e fino a qui non ci sarebbe diciamo nulla di male. Qual è il grande pericolo che sovrasta a queste proposte di rifinanziamento? Che molto spesso contengono una clausola che tecnicamente si chiama demand leva in buona sostanza significa io ti faccio un nuovo finanziamento però su una clausola c'è scritto tu mi certifichi che tutto ciò che abbiamo fatto in passato non hai nulla da pretendere, non hai nulla da richiedere. Cioè qualsiasi sia l'irregolarità che io banca potessi aver fatto tu con questa firma su questo contratto di rifinanziamento mi sollevi da ogni responsabilità quindi un domani non potrai chiedermi nulla. Se io eventualmente ti avessi praticato usura se io eventualmente ti avessi praticato anatocismo se io eventualmente ti avessi fatto qualsiasi altra procedura illegittima tu con questa firma mi sollevi da qualsiasi responsabilità e quindi un domani non potrai chiedermi nulla. Allora attenzione perché per l'ennesima volta sono anni ormai dal 2008 che le banche hanno chiuso i rubinetti e chiedono il rientro dai prestiti con queste proposte di rifinanziamento che però contengono questa clausola che una volta firmata vi impedisce qualsiasi azione giudiziaria successiva anche se doveste scoprire o doveste essere convinti che la banca vi ha trattato in maniera illegittima. Quindi fate moltissima attenzione. Io più volte vi ho esortato a leggere il libro Io so e ho le prove che evidenzia tutta una serie di irregolarità e com'è cambiata la situazione bancaria dal 2008 in poi vi rimetto il link a questo riassunto di libro vi metto il link a un recente articolo che conferma che anche in questi giorni in queste settimane le banche stanno agendo in questa maniera attenzione ci vuole più attenzione e più cultura sui problemi bancari e finanziari. Le banche non sono organismi inattaccabili non va compiuto l'errore l'ho detto anche due giorni fa di avere la posizione opposta cioè di affidarsi a professionisti che promettono incondizionatamente di recuperare eventuali perdite dalle banche non si può fare una premessa a priori ci si può affidare a professionisti seri ad associazioni di consumatori che vi possono aiutare a questo naturalmente ad avvocati preparati seri sull'argomento ma attenzione a chi vi promette diciamo così strombazzando a livello pubblicitario che in ogni caso vi farà recuperare cifre dalle banche le banche non sono inattaccabili però naturalmente ci vuole un professionista assolutamente preparato su questo ma ribadisco ditelo ai vostri amici agli imprenditori che conoscete i professionisti alle famiglie normali attenzione alle proposte di rifinanziamento che contengono una clausola che solleva le banche da qualsiasi responsabilità passata in questa maniera le banche si blindano contro qualsiasi tipo di porcheria potessero aver fatto nel passato e ce ne sono assolutamente tantissime ma ribadisco per scoprirle affidatevi a un buon professionista e non diciamo così a chi promette in maniera esagerata risultati matematici risultati garantiti quindi vi lascio con questo avvertimento fate molta attenzione alle proposte di rifinanziamento delle banche possono contenere questa clausola che le blinderebbe e vi impedirebbe di recuperare quello che magari vi hanno estorto illegittimamente grazie e alla prossima